Ascolta la mucca Benvenuto in Ascolta il tuo animale preferito Da oggi puoi ascoltare il tuo animale preferito direttamente a casa tua, comodamente dal tuo divano Scegliere un animale Animale non valido Scegliere un nuovo animale Hai scelto la mucca Se vuoi ascoltare la mucca, scegli Conferma Se vuoi ascoltare un altro animale, scegli Annulla Hai confermato la mucca Vuoi ascoltare la mucca in Audio Mono Audio Stereo Audio Dolby Surround Audio Dolby Digital Hai scelto di ascoltare la mucca in Audio Dolby Digital Spiacente, il tuo impianto audio non è adatto per la riproduzione audio Dolby Digital Scegli Mono o cambiare impianto audio Se vuoi ascoltare la mucca in Audio Mono, scegli Mono Se vuoi ascoltare la mucca in Dolby Digital, scegli Collegamento Web a Negozio Virtuale Hai scelto di ascoltare la mucca in Mono Sei sicuro? L'ascolto in Dolby Digital è di gran lunga più emozionante Se vuoi ascoltare la mucca in Audio Mono, scegli Confermo Se vuoi ascoltare la mucca nell'emozionante Dolby Digital, scegli Voglio solo il meglio Ok, hai scelto mucca Mono Un attimo di pazienza Sto caricando La mucca Caricamento completato Quando sei pronto ad ascoltare la mucca Premi Ok Ok Ascolta La mucca Ascolta la mucca